Di fronte a un'Europa sconvolta dalla guerra, nessun equivoco, nessuna incertezza è possibile. La federazione russa, con l'atroce invasione dell'Ucraina, ha scelto di collocarsi fuori dalle regole a cui aveva liberamente aderito. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa a Strasburgo, sottolineando che l'Italia ha svolto un ruolo da protagonista sul versante delle sanzioni verso la Russia ed è pronto a deciderne altre. Grazie a tutti.